musica non li vedete bene? vi do una mano io si ho scaricato l'Octifine ci ho fatto anche il tutorial quindi se non l'avete visto siete persone molto cattive e malvagie e cosa faremo in questo episodio? andremo si mi sto divertendo andremo all'esplorazione non so se questi episodi vi piacciono perchè il primo episodio vi è piaciuto moltissimo il secondo vi è piaciuto il terzo non tanto il quarto invece non lo so perchè non l'ho ancora caricato quindi voglio chiedervi ditemi che tipo di episodi volete perchè questa sarà una serie lunga davvero lunga sul mio canale perchè dobbiamo fare un bordello di case esplorare tutto esplorare praticamente tutto il mondo 30 milioni di blocchi da tutti i lati bastano tutti i biomi è roba varia quindi è lunga e di episodi ne farò di tantissimi tipi però ditemi quale preferite in questo modo posso farne di più di quel tipo non lo so costruzione casa in timelapse esplorazione come quella che faremo oggi gite in barca miniera combattere i mostri nel mob farming notturno ditemi quel che volete per me possiamo anche fare un episodio a stare qua a girare come degli idioti so quindi nell'attesa che voi mi rispondiate io vado ah in caso vi chiedeste perchè ho 7 livelli mentre lo scorso ne avevo 17 perchè sono morto qui si mi ero teletrasportato per andare a prendere un po' di grano e ho praticamente due adesso di grano ho 2 stack ma non di grano di proprio balle di fieno comunque stavo dicendo sono arrivato qua mi sono teletrasportato ho sbagliato ho premuto 8 invece che 9 sono finito di pam 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 e sono morto malissimo già questa è più o meno la storia della mia vita aaaah è divertente devo ammettere che è divertente zoomare adesso potrò fare anche gli screen fighi comunque si qua ho ripopolato con tanti alberi più della volta scorsa per esempio quello lì non c'era quello lì non c'era quello lì non c'era quello lì non c'era quello no quello lì c'era e adesso andremo in quella direzione e adesso in momenti come questi che vorrei un cavallo che c'era peraltro là un cavallo chissà se mi basterà questo cibo non lo so speriamo sì lo so che qua c'è un aia aia due volte c'è un bioma che non abbiamo ancora esplorato altro coniglio però non mi va di fare la casa qui attaccata all'altra perché poi che cazzo mi serve il teletrasporto altri girasoli ma alla fine si girano proprio col sole? no sembra di no no ma aspetta ora si beh bravo il blocco di reston proprio buttalo via sei un genio libero you are very genius ma la smetti no sei scemo ce la fai bravo se lo li metto? no proprio si gira a casa e non col sole quindi no minecraft non sei professionistico come gioco sei un giochino brutto brutto e malva malva andiamo io in questo episodio oltre che la mesa che è il mio bioma preferito e voi chiedete ma fai a sapere dell'esistenza della mesa tu non sei mai niente e io praticamente ho aggiornato solo per quel bioma perché la clay è il mio materiale da costruzione preferito in assoluto davvero è bellissima ci ho già fatto la mia casa principale in creative con la clay e il vetro colorato bellissima davvero è enorme neanche tanto ma è difficile da fare è veramente bella una delle più belle che abbia mai vista e non lo dico solo perché l'ho fatta io davvero mi piace e non l'ho copiata da nessuno prima tanto prima che la costruiamo passeranno 50 episodi perché non so neanche ancora in che bioma andare a costruire eh sì dimmi che c'è l'acqua così posso fare no tuff no non c'è stata una volta in cui un mio tuffo sia andato a buon fine una una io comunque non so se questo episodio puramente di andare a girovagare senza far niente vi piaccia e quindi mi rimetto al vostro giudizio io però so tentato eh so anche idiota però tentato ancora vabbè un po' di carbone ce l'ho lo prendo vi taglio la scena io lo prendo sarò sarò incapace però eh il tramonto mettiamo il letto anche sotto un albero perché siamo comunque al coperto non possiamo dormire fuori lo so infatti qui non siamo fuori eh 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 sì è una cosa sono una persona molto malvagia fai le regole non le rispetti anche vero ciò buonanotte a tutti comunque con l'Optifine si gira veramente da dio devo ammettere che è una figata paksurda un pollo un pollo sono bellissimi i polli come l'Oro nessuno io non so però dove stai andando questo è spruce questo è spruce è spruce vai gimme a sapling gimme a sapling please 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 gimme a sapling please 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 a sapling non one thousand sapling one one sapling ah io non voglio di tagliarvi questa scena quindi vi parlo lo so che non vi piacerà ma io lo faccio comunque io sono una persona tendenzialmente sfortunata ma tanto eppure ci sono un paio di ho avuto un paio di giorni fa una giornata di un culo cui ho avuto un culo tremendo sai che c'è sapete non sai sapete che esiste il registro elettronico ce l'avrete anche voi a scuola se non ce l'avete è praticamente un luogo orribile su internet dove tutti i vostri voti le note tante note vengono riportate perché i vostri genitori li vedano cosa molto bella e divertente e i voti lì sono quelli che alla fine fanno fede la cosa bella che è un 5 la professoressa l'ha letto male e lì sopra cosa c'è rimasto sul registro elettronico un 6 si la mia gioia è una cosa fenomenale so contento no so contento poi ho preso anche un 6 al 7 di letteratura latina boia 6 al 7 di letteratura latina senza aver studiato un cazzo è bello si io abbatto le foglie e ci vediamo dopo 6 alberelli wow ah una mucca però direi che possono bastare benissimo ah un'altra cosa volevo chiedermi porca merda ditemi aia quanto li volete lunghi i video perché io non ho problemi a farveli di 20 minuti basta tagliare un po' di meno e sono di 20 minuti ditemi se li volete tanto tagliati e corti tanto tagliati e lunghi ma per fare una cosa del genere ci vorrà tanto tempo tra un video e l'altro poco tagliati e lunghi e va bene oppure poco tagliati e corti che dove alla fine non si fa un cazzo io secondo me i migliori sono o poco tagliati e lunghi o molto tagliati e corti ditemi quale preferite perché io non ho problemi quelli lunghi sono più difficili da caricare perché ci metto un bordello di tempo in più ma ci impiego un secondo più o meno a montarli mentre non ci faccio la casa qui è comunque mentre gli altri sono un po' più lunghi nel montaggio perché comunque alla fine a montare un video di 20 minuti tagliarlo un'oretta ce le impieghi però ci impieghi meno a caricarlo anche se di notte ovviamente non me ne frega più di tanto però è comunque un vantaggio la palude la palude dimmi che qua sotto c'è l'acqua se questo è un trampolino naturale io no quel cazzo se mi butto da qui muoio malamente no 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 gente scommesse aperte ce la faccio o muoio 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 what the fuck cosa che cazzo sta succedendo no io non ci credo io non ci credo io non ci voglio credere io non ci credo oh merda no sul serio oh merda io qui mo come cazzo faccio ma se rimuoio non è che mi riporta la vero dai no non ci voglio credere ci ho perso un bordello di ferro ci ho perso tutto ti prego fammi rispondere a casa ti amo se me lo fai ti prego io non posso tornarci a nuoto non ce la posso fare ti supplico per favore è una cosa sarebbe troppo troffirei tro ti prego a casa a casa a casa no oh merda io io metto la creative ragazzi per favore posso anzi posso teletrasportarmi a casa mia vi prego non so che contro le regole ma non posso uscire da questo posto non non c'è legna per fare i picconi non posso fare niente niente da qui non ho speranze di tornare a casa se non nuotare nuotare perderei 5 ore circa io vi dispiace tanto se prendo la creative e me ne vado vi dispiace mi teletrasporto a casa mia posso per favore ce la fai perché non dirmi perché ho la tastiera in inglese ma cristo perché tutti sti fail perché ce l'hai con me mondo tp meno 808 con l'altezza 96 1080 80 no no di nuovo no di nuovo no 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 ti prego faccio qualsiasi cosa faccio ah oh sono vivo il mondo mi odia ne abbiamo la prova questa è la prova che il mondo mi odia ma ho sbagliato ah non è che è 809 è 809 perfetto ah oh mio dio io vado a riprendermi la prima mangio vado a riprendermi la mia roba e sono incapace e torno si aprono le scommesse secondo voi ce la faccio o non ce la faccio eh eh questo episodio sarà lungo ve lo dico una ventina di minuti inutili ma una ventina di morda non posso morire anche così corri ragazzo la giuppa io non neanche letto no pure contro i mob dovrò battermi ti prego dio se esisti e mi vuoi bene guarda la fame come scende ti prego no non ce la farò mai io ci crepo di nuovo qui ti prego corri corri come non hai mai corso in vita tua io so che ce la puoi fare io credo in te qua intanto c'è un deserto spero di stare azzeccando la direzione merda non potrei essere messo peggio sul serio dai dimmi che c'è la swamp qui cos'è cos'è questo bioma no sono contento di averlo trovato ma cos'è non è quello che volevo ecco non posso neanche più io ci muoio di fame merda merda potevo portarmi le patate no io sono un coglione le lascio lì merda 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 dai prima che diventi notte devo andare a prendere la mia roba per favore universo mi è voluto bene un paio di giorni dove sono finito dove è la mia roba ando sta la mia roba e io non ho neanche spostato il letto così se muoio se muoio so di nuovo la eh so di nuovo la porca puttana no questa è la triste fine del vostro amato e compianto leberni leven lui vi guarderà per sempre dallassù o in quell'isolotto di merda dove capiterà di nuovo per l'ennesima volta perché lui è troppo è troppo è troppo furbo perché lui si butta dalle scogliere lui va di notte senza senza cibo con la fame che non rigenera più a combattere a recuperare la roba perché lui può e lui potendo lo fa perché lui è l'ebernileven e nessuno mai potrà fermarlo se non il primo creeper o la fame si bravo lebravo una mossa e lo zombie oh mio dio no no e no no ti prego no zombie dov'è la mia roba dove sta la mia roba ci ho perso un bordello di cosse oh merca io vi ricordo che sto è il ragno si ma tranquilli no io non sto non mi ha visto non mi ha visto fuggi ebern fuggi fugo ole le proate le peggio proate stammi lontano ah è nato pure un piccolo pollo un baby pollo nato un baby pollo un baby pollo un baby pollo per te un baby pollo ci sta anche un creeper un creeper un creeper sta pure un creeper un creeper ci sta anche un creeper la swamp la swamp è là la vedo la sento me lo sento che là ci sta la swamp o la si chiama swamp morirò prima di raggiungerla ci scommetto tutto dai corri pure quell'armato ma dio ma perché no no non ci sta neanche qua la palude ho sbagliato totalmente direzione no dai mondo io ci credo ancora io ci credo ancora ah ah mio dio l'urletto isterico poi oh si è qua è qua è qua la mia roba è qua dai che la prendo no non posso morire così no no questa è la peggior morte della mia vita ti prego ti prego trovala trova la tua roba no 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 era lì era lì non ci credo non di nuovo qui ma che cazzo di falle oh me oddio l'episodio finisce qui penso che sia l'episodio più failo ti picchio ti stupro zombie di merda eh hai problemi con me pure l'irragno che nuota eh oh mio dio non mi pare di averti invitato eh tanto io posso no no basta non voglio più morire per oggi cosa perché ha le particelle no ragno di merda ragno di merda non posso neanche più dai no io non questo episodio è di una tristezza pure dai prima o poi morirete don't kill me please oh lo uccide come solo lui può al prossimo episodio avrò la mia pezzetta merda non